No, l'arrenamento è solo chiamare. Oggi ci soffermiamo sul motociclismo, una disciplina, soprattutto quella di velocità, che è molto pericolosa. Tanti piloti ci hanno rimesso, se non la vita, comunque l'uso degli arti inferiori. Pensiamo a Wayne Rainey, che perse un titolo mondiale finendo fuori pista a Misano Adriatico e perdendo per sempre l'uso delle gambe. Oppure hanno perso una carriera, o hanno dovuto scendere a patti con viti nel corpo, con protesi, con una gamba magari più corta dell'altra. Provate a chiedere a Mick Doohan, più volte campione del mondo della Cinquecento. Ma sono anche personaggi, quelli che scendono in pista, che a volte, sì, sono dei perfetti padri di famiglia. Altre volte coniugano al loro interno genio e sregolatezza. Vediamone un pochi. Non si può cominciare questa piccola carrellata se non con lui, Noriyuki Ahaga, Norik per gli amici. Un pilota giapponese davvero sregolato in tutto e per tutto, ma simpaticissimo. Norik Ahaga, alla fine degli anni 90 e primi anni 2000, è l'alfiere della Yamaha, la casa dei 3 di Appazon, chiamata così perché inizialmente è nata come azienda produttrice di strumenti musicali e poi dedicatasi anche ai motori. Ebbene, Ahaga è un fenomeno, è un talento. Viene inserito nella squadra corse ufficiali per il campionato Superbike, il campionato delle moto derivate dalla produzione di serie. È il cavallo di razza su cui Yamaha punta per prendersi il titolo nella categoria. Ma è anche, beh, è un cavallo pazzo. Ne sanno qualcosa i tecnici del team ufficiale basato in Italia e con meccanici e non solo italiani che lo gestiscono. Primo problema, Ahaga non parla italiano, non parla a momenti nemmeno l'inglese, paga solo il giapponese nel problema. E allora come si cerca di ovviare a questa barriera linguistica? Beh, noi italiani ci facciamo capire in tanti modi. I tecnici della squadra iniziano a insegnargli qualunque parolaccia possibile e immaginabile e lui le impara, le impara molto velocemente, le impara al punto da diventare un personaggio nelle interviste. Ricordiamo alcune interviste molto particolari di Haga, una a bordo del podio in cui gli spugge, non si sa quanto volontariamente, una imprecazione blasfema. Un'altra in cui, addirittura, beh, giudicate voi, intervistato da una bella giornalista, parla di attività sessuale come allenamento preferito. No, allenamento sarò chiamare. Noriyuki Haga, genius regolatezza. Certo, non raccoglie moltissimo, secondo molti osservatori avrebbe potuto raccogliere molto di più nella sua carriera, però si sa chi è genius regolatezza. Non sempre riesce a centrare l'obiettivo grosso. Il massimo che lui abbia ottenuto da tutti i suoi sforzi è il secondo posto nell'anno 2007, quando aveva già 32 anni. Nel momento in cui di punta della sua carriera, quindi la fine anni 90 e inizio degli anni 2000, pur contando sulla squadra corse ufficiale, non va oltre un altro secondo posto nel 2000 e un quarto posto nel 2002, con l'Aprilia. Certo, avrebbe potuto far di più? Sì, ma se avesse fatto davvero di più, ci avrebbe regalato delle perle, beh, non di saggezza, delle perle di comunicazione sue pari. Ma non lo vido un cazzo? Beh, è difficile da dire. Certo, oggi ricordiamo Noriyuki Haga, non perché sia morto, per carità di Dio, è ancora vivo e vegeto a solo, sostanzialmente, 48 anni, ma lo ricordiamo come pilota, oltre che per il suo stile di guida, teso sempre all'eccesso, anche per quelle uscite genuine, simpatiche, ruspanti, a volte anche eccessive, che non invecchiano mai e che anzi, nei vari social, continuano a guadagnare visualizzazioni anno dopo anno dopo anno. Sono come dei meme viventi. O c'è chi tra i viventi non c'è più. Prendiamo l'esempio di Joe Idalgo, Mr. Tourist Trophy. Avete mai sentito parlare del Tourist Trophy? Il trofeo dei turisti. Una corsa massacrante che si corre annualmente nell'isola di Man, un'isola posizionata tra Gran Bretagna e Irlanda. Il circuito, chiamato Mountain, non è chiamato così per puro caso. È un circuito lunghissimo. Parte dal centro abitato, che è vicino al porto. Si snoda per la campagna, risale le catene collinari dell'isola e poi ritorna giù, verso il mare. È un percorso assassino. Sono morti in tanti sul Mountain Circuit. Ed è anche il motivo per cui, all'inizio degli anni 70, i piloti del moto mondiale, a cominciare da Giacomo Agostini, presero posizione e boicottarono il Mountain Circuit. Troppo pericoloso. Perché? Perché non è un circuito permanente, non è neanche un circuito adattato. Sono proprio strade di città e di campagna, coi tombini, i lampioni, i semafori, ovunque ostacoli mortali. Perché basta un niente. Basta la distrazione, basta un errato calcolo del punto di corda di una curva, avere esagerato quella velocità. E ci si va a schiantare. E quando ci si schianta, è difficile restare vivi. Joey Dunlop era il re del Tourist Trophy, anzi, di tutto il mondiale Formula TT. Quel mondiale sorto per dare nuova dignità al Tourist Trophy, esportandolo poi in altri circuiti cittadini. Un mondiale dedicato, prima che della nascita della Superbike, a dei prototipi derivati dalla serie. E poi morto, proprio per le merge della Superbike, che aveva scelto circuiti permanenti ben più sicuri del Mountain e dei suoi epigoni in giro per il mondo. Eppure Joey Dunlop è stato per tanti, tantissimi anni, il simbolo di genio e sregolatezza. Lui che otteneva, spesso e volentieri, delle wildcard, cioè degli inviti, per il moto mondiale, o per la Superbike, per gli appuntamenti mondiali. Però preferiva correre nelle varie classi della Formula TT, su cui percorsi così pericolosi. E vincendo, vincendo tantissimo, vincendo in maniera incredibile. Al Tourist Trophy, lui che vi debutò nel 1976, quando ormai la corsa era già bandita dai grandi campioni, al Tourist Trophy lui ha vinto di tutto, in ogni classe. Nella Formula TT ha collezionato ben cinque titoli, tutti in Formula 1, che nella categoria TT vuol dire la massima competizione. Venne battuto solo una volta nel mondiale Formula TT, nel 1987, dall'italiano Virginio Ferrari, un altro pilota dalla storia molto particolare, perché non riuscì per pochissimo a laurearsi campione del mondo della classe 500, ma si rifece, nel 1987, la guida di un prototipo, la bimota YB4, poi destinata a diventare un grande successo della casa riminese. Ma Joey Dunlop, come abbiamo detto, non è più tra noi, non è più tra noi da oltre 23 anni. È morto, Joey Dunlop, il 2 luglio del 2000, a Tallinn, in Estonia, dove correva nell'ennesima corsa stradale, tra l'altro con una 125, la categoria più piccola, teoricamente quella meno pericolosa. Su una strada di Campania, dal fondo bagnato, Joey Dunlop ha perso il controllo della sua moto, ed è andato a schiantarsi contro gli alberi, morendo immediatamente sul colpo. Aveva 48 anni, ma aveva vissuto la sua esistenza da pilota senza risparmiarsi, sempre accettando il rischio anche dei suoi eccessi, facendosi fotografare volentieri mentre beveva qualche birra prima della partenza, cosa che oggi nessun pilota si alzarderebbe mai a fare. Figuriamoci, nell'era dei social in cui, con uno scatto fatto da un telefonino, si può rovinare la reputazione, la carriera di un atleta nel giro di pochi secondi. Se leggete ogni tanto le interviste rilasciate dai capi delle squadre del moto mondiale, vi accorgerete di come oggi i piloti cosiddetti problematici vengano indicati per atteggiamenti che sembrano, sì, forieri di problemi, però rapportati a ciò che accadeva un tempo, acqua fresca. Prendiamo un'intervista rilasciata da Davide Tardotti. Anche lui, ex pilota della Superbike, sfiorò il titolo nella prima edizione del campionato del 1988, lo perse con una scivolata all'ultimo round e oggi team manager del team Ducati ufficiali e moto mondiale. Cosa dice Tardotti? Cosa ha detto Tardotti? Qualche mese fa, rilasciando un'intervista a un famoso quotidiano italiano, ha fatto una carrellata dei piloti gestiti negli ultimi anni come, appunto, team manager. Ha detto che Iannone, famoso Iannone a cannone, è stato uno dei più difficili da gestire. Ma anche Orghe Lorenzo non è stato semplice. Perché? Ma per tanti motivi. Anche per certe cose, per piccoli litigi, per piccole rivalità nel box, quelle cose che a un occhio non attento sfuggono, ma che tutto sommato appaiono davvero sottigliezze rispetto a quello che si vedeva un tempo. Lo stesso Tardotti, ad esempio, ha gestito negli anni della Superbike Carl Fogarty, Foggy, un altro grande re delle derivate per serie. Lui che ha vinto più e più titoli mondiali e che era famoso nel circuito del mondiale per le derivate per il suo stile oltre le righe. Basterebbe guardare una qualifica fatta da lui ad Assen in Olanda, l'Università del Motociclismo con gomme da asciutto su pista bagnata. Sì, avete capito bene. L'azzardo completo andare a prendersi una pole position rischiando, rischiando di cadere, e di farsi molto male. Ma il re degli eccessi su due ruote non può che essere lui. Anthony Gobert, The Go Show, australiano, una vita passata nel segno degli eccessi. Non è semplice riannodare il filo della memoria con lui, ma ci proviamo lo stesso. I suoi esordi, un grande talento, enorme, viene notato dalle case giapponesi, ottiene prima delle wildcard per il mondiale Superbike poi un posto nel team ufficiale Kawasaki, vice diverse gare, impressiona, piace molto. piace così tanto che dal mondiale Superbike passa il moto mondiale, classe 500, la classe regina, chiamato dal team ufficiale della Suzuki. Ma nell'anno che lui passa nel moto mondiale si scopre che Gobert è tanto genio quanto sregolatezza. Perché Gobert ha problemi, problemi con le persone che frequenta, con le abitudini e con certi vizi. Fuma, beve e si droga. Nel contratto con Suzuki, Gobert sa benissimo che è presente una clausola. È una clausola legata ai controlli anti-doping e uno di questi controlli lo trova positivo. Licenziato in troco, rispedito a casa in Australia. Da lì viene prelevato da una struttura americana per il campionato americano Superbike. Anche qui le cose non vanno bene, i risultati non sono granché e soprattutto un'altra positività all'anti-doping. Carriera finita? No, perché c'è qualcuno che crede ancora in lui. Si chiama Virgilio Ferrari, lo abbiamo conosciuto prima, già campione della Formula TT nell'87, diventato team manager, scaricato da Ducati e con lui un'intera squadra. Questa squadra offre a Gobert l'occasione del riscatto. Vogliono tutti in realtà riscattarsi. Con una moto che è ritenuta la peggiore dell'otto, la Bimota SB8K. Una moto potenzialmente buona ma senza sviluppi, non ci sono soldi, non c'è te. Gobert stupisce tutti con una vittoria sul bagnato a Philippe Island nel 2000. Si alzano tutti in piedi quando lui taglia traguardo con 30 secondi di margine su Carfogarty che ha fatto gli equilibrismi per stargli dietro. È un fuoco di paglia. Fuoco di paglia perché la squadra di Ferrari chiude i battenti un paio di mesi dopo, travolta dalla crisi finanziaria dell'azienda Bimota. È un fuoco di paglia per lo stesso Gobert che rimane appiedato. Concluderanno in altre squadre ma senza più brillare. Ci prova, ci riprova, ci riprova ancora ma non ce la fa più. A un certo punto ammette anche di avere dei problemi con l'alcol e con le droghe e entra in clinica per disintossicarsi. Notizia di qualche anno fa Gobert una sera finisce all'ospedale ed è conciato molto male. Non è stato un incidente in moto o un incidente in pista. No, era andato a cena in un ristorante. Un suo vecchio fan lo aveva riconosciuto, gli aveva chiesto l'autografo però la cosa non era finita bene. Questo fan più alticcio di lui una volta tanto lo aveva seguito a casa assieme a degli amici che aveva sfondato la porta e ne era nata una scazzottata in cui i tifosi avevano decisamente esagerato, lo avevano picchiato in maniera selvaggia anche usando una mazza da baseball. Anthony Gobert è sopravvissuto al pestaggio, certo non se la passa molto bene ma tutti si ricordano di lui come The Go Show, genius regolatezza, pilota capace di infiammare la gente che va a vedere le corse sulle piste e poi di stupire il negativo con delle notizie raccapriccianti, gli eccessi, la droga, i ricoveri, i pestaggi subiti e allora a volte ci domandiamo anche noi ma è possibile essere campioni tutto tondo restando calmi, evitando gli eccessi, evitando di precipitare in vizi pericolosi? È possibile vincere qualcosa, essere ricordati per un successo o più successi o per un alloro mondiale senza che poi la faccia, il nome, la reputazione vengano macchiate indelibilmente in qualche altro modo? Ci sono stati esempi di campioni limpidissimi, di campioni che hanno scritto pagine di storia, che hanno iscritto il proprio nome negli albi d'oro venendo ricordati anche per la loro estrema limpidezza di fuori del campo di gioco, dell'arena, dell'autodromo o del terreno a loro abituale. Ma volete ammettere il fascino di belli e dannati, di quelli che riescono a raggiungere gradi traguardi magari poi a cadere e a rialzarsi? Beh, le favole a lieto fine piacciono a tutti. Il guaio è che per alcuni di questi, Joey Dallo, Anthony Gobert, in parte anche noi Ruki Haga, non c'è sempre il lieto fine. Grazie a tutti i nostri